Allora, «L'ontan jamais suis couché de bonheur». Prima di cercare di dimostrare perché si tratta di una scelta assolutamente geniale che risolve tutti i problemi che aveva Proust, almeno date le circostanze, lasciatemi dire che si tratta di un incipit straordinariamente intraducibile, come vedremo, che appunto è stato tradotto a più riprese, la cui traduzione ultima, la più ormai diffusa e anche la più autorevole, quella di Rabboni, è una traduzione particolarmente sbagliata. E probabilmente è sbagliata perché Rabboni, essendo appunto un grande traduttore, un traduttore autore, quindi insomma con una forte voleva, cosa errore che quando uno traduce non dovrebbe mai fare, più che pensare al lettore o più che pensare al testo originale, pensava di distinguersi dalle traduzioni precedenti. Quindi lui traduce con, a lungo mi sono coricato di buon'ora. Questa traduzione mi sembra sbagliata per mille ragioni, a cominciare da questo strano avverbio, a lungo, a lungo, che insomma non so quanto sia un buon italiano, ma a me non pare un buon italiano, a lungo per dare un'idea del tempo, a lungo, e soprattutto una cosa grave, direi un peccato mortale, se l'avverbio è longtemps, si chiama la ricerca del tempo perduto, nelle prime tre righe la parola tempo viene detta da Proust tre volte, il libro finisce con la parola temps, e tu non mi puoi togliere dall'incipe la parola tempo, perché non ha senso, perché? Perché visto che lui usa un avverbio che in italiano non esiste, un avverbio strepitoso, tu vuoi dire pure io metto solo un avverbio, non utilizzo invece una frase composta per lungo tempo, come per esempio fa la Giesbord. E questo è il primo errore. L'altro errore mi sembra questo di buon'ora, mi sono coricato di buon'ora, che dovrebbe riprendere il francese bonheur, in realtà ho la sensazione che la buon'ora da noi in italiano è più la mattina, no? Mi sono svegliato di buon'ora, ma non è che se tu vai a letto presto, dici vado a letto di buon'ora, quindi insomma il Rabboni fa un po' di casino, tra l'altro la traduzione è bellissima, però spesso fa dei casini, questo è uno dei casini, tra l'altro gli è stato molte volte rimproverato. Il punto non è questo, il punto è vediamo come lui ha risolto il suo problema. Il problema appunto era quello di creare questa relazione tra i tempi e la prima cosa che fa è utilizzare un avverbio, un avverbio composto francese, che non esiste appunto in italiano, che è proprio la recherche nella sua essenza, long time, che vuol dire per molto tempo, e dà una sensazione, le due sensazioni che lui vuole avere, cioè il tempo e il tempo nella sua lunghezza, long time, oltre al fatto che proprio in senso flobertiano, sentite che meraviglia, long time, long time, poi la letteratura è fatta di parole, long time, dà proprio il senso del tempo, di un tempo infinito, di un tempo lungo. Allo stesso tempo crea, come vi dicevo, una relazione con il nostro tempo, o meglio con il tempo di Proust, con il tempo del narratore della ricerca, attraverso l'uso del passato prossimo. Per molto tempo, mi sono svegliato, presto, è un passato prossimo che crea questo contatto tra il passato e il presente. Dall'altro, nella grammatica, serve esattamente a questo. Ed ecco che, improvvisamente, noi ci troviamo in questo dormiveglia, in cui il narratore non riesce a capire bene dove si trova, se è ancora nelle vecchie stanze della sua infanzia, se è nelle stanze degli alberghi dove ha dormito, quando è diventato adolescente e poi giovane, o se si trova adesso nella sua stanza, diciamo da malato. Fatto sta che è riuscito a creare questa atmosfera, che è un'atmosfera, come vorrei dire, vorrei dire, allo stesso tempo trasognata, proprio perché siamo nel dormiveglia, ma anche vagamente mortuaria. C'è un mirabile libro di Vladimir Nabokov, che si chiama Parla Ricordo, che ha anche quello a che fare con il tempo, in cui lui recupera appunto la memoria dei suoi anni, anche lui i suoi anni felici, nella patria perduta, nella Russia perduta. Ed è un libro che è giocato tutto, come dire, su una sorta di capacità del narratore, Vladimir, di evocare queste immagini con una straordinaria vividezza, come se in qualche modo fossero cristallizzate nella mente dell'autore. La cosa sensazionale invece nel mondo proustiano è che noi questa vividezza non l'abbiamo mai. Abbiamo come la sensazione che questo passato, che sta cercando faticosamente di evocare, gli sfugga continuamente dalle mani. È lì e poi non c'è lì. Al punto tale che, se così si può dire, mentre la prosa di Nabokov agisce in una sorta di luce radiosa, dove gli azzurri sono azzurri, i verdi sono verdi, e di tutto è vivido e radioso, come una pala d'altare di rinascimento. Invece in Proust è tutto incredibilmente soffuso, al punto tale che quando, in una delle scene più celebri, che è quella del bacio della buonanotte, quando improvvisamente il tempo risorge, lui parla del suo passato come delle luci di Bengala lontane. Cioè, appunto, la luce non è una luce che sta qui, è una luce lontana. Ed è come se, e questo è il fascino straordinario dello stile di Proust, è come se la voce di Proust fosse una voce che viene dall'oltretomba, è una voce che viene dal regno dei morti. Per questo ha questo, come dire, suono profondo, solenne, ma a suo modo anche straordinariamente ironico, proprio perché ha questo, c'è questa idea che il tempo che lui deve andare a recuperare è molto lontano. E è lontano e inafferrabile. Che succede? Succede che, a un certo punto, quando noi leggiamo, iniziamo a leggere le ricerche, e abbiamo avuto, come dire, questa entrata triunfale, con il long time, ce n'è sui quichet de bonheur, ci troviamo, come dire, catapultati in questo passato siderale. Ora, la cosa peggiore che possa fare un lettore di Proust, o chi di Proust vuole essere in qualche modo emulo, è proprio quello di credere che, in realtà, il tentativo di Proust sia quello, diciamo così banale, di recuperare un tempo in cui mangiava i pasticcini con la zia Leonie. Non è questo il punto. Il punto è proprio che lui, come dire, vuole cercare, in ogni modo, di, come dire, costruire un'atmosfera, che poi è quello che fanno i grandi romanzi, assolutamente indimenticabile, che, in qualche modo, consenta di guardare il tempo, come dire, attraverso questo diaframma, che è, a giudizio mio, il modesto lettore proustiano, è, come dire, straordinariamente commovente. Proust diceva che ogni grande libro, in realtà, più che consentirci di leggere quello che c'è scritto, consente di leggere noi stessi, sicuramente la ricerca è uno di quei libri. Cioè, la ricerca è una sorta di mantra, è uno strumento di conoscenza. La voce della ricerca può essere, da questo punto di vista, soprattutto appunto quando lo legge a mente, non in un reading, può diventare veramente, al punto tale che, per chi, per chi è un tarantolato della ricerca, ci sono queste ricchiette, che ogni tanto mi danno il tormento, con delle lunghissime mail, su quel dettaglio, quando Rien de Germant mangia per la prima volta, che ne so, il patè foie gras, c'è tutto un pubblico vasto, molto più vasto di, non so, di quello che abbia Musil, per esempio, di persone che sono completamente rimaste tarantolate da Proust. Cioè, il ritmo di questa scrittura, che per alcuni è indigesto, può essere talmente ipnotico, che una volta che ti entra dentro, tutto il resto ti pare in qualche modo banale, trito, torni a leggere Standale, ti sembra di una trivialità assoluta, proprio perché hai bisogno di questa voce profonda, che viene da chissà quale oscurità. E non è un caso, mi diceva un italianista amico, un caro amico, che qualcosa di analogo avveniva con Petrarca nel Rinascimento, quindi più o meno a distanza di secoli e decenni appunto dalla morte di Petrarca, c'era proprio una religione del Petrarca che assomiglia molto alla religione di Proustiani per Proust, o alla religione di certi musicologi per Wagner, cioè proprio perché entri in un mondo che è talmente autonomo, autosufficiente, che ti basta, puoi vivere di Proust tutta la vita, a tal punto che chi scrive su Proust puoi scrivere solo su Proust. Questo fa sì che per me, per esempio, appunto, uno dei tanti Proustiani, mi basta aprire una pagina, qualsiasi, per stare immediatamente dentro la musica e non smettere. In ogni caso, la ricerca inizia, entri in questa musica, chi c'entra è dentro, e ti rendi conto, se la guardi, se non appunto con gli occhi dell'innamorato, ma con occhi tecnici, di chi appunto fa uno studio su queste cose, che in realtà Proust non usa tempi tempi che abbiano a che fare con il presente, non usa mai il presente, usa sempre tempi del passato, passato prossimo, imperfetto, passato remoto, soprattutto passato prossimo, naturalmente con tutte le infinite coniugazioni, declinazioni, tenendo conto che, che in realtà la sintassi e la ricerca è talmente ricca che ci sono appunto congiuntivi, condizionali, però tutti collocati nel passato. Fino a un certo momento, la cosa interessante, per farvi capire l'importanza, e mi avvio a concludere, diciamo, l'importanza dell'uso dei tempi e dei modi verbali nella ricerca, cioè che la prima volta che Proust usa il presente indicativo è in una scena fondamentale e posso dirvi che, adesso lo leggeremo insieme tra un po', che quando noi arriviamo a quel punto, quando noi dopo tanti passati prossimi, imperfetti, finalmente vediamo il presente, sentiamo un senso di profonda commozione. Per me la parte con cui chiuderemo questa lezione è forse una delle cose più belle che si è mai stata scritta. Ma per arrivarci, occorre, almeno per chi non ha letto la ricerca, fare un piccolissimo riassunto su quello, diciamo, delle puntate precedenti. Il narratore descrive, nelle prime pagine della ricerca, la sua infanzia in questo paesino di campagna che si chiama Combré. In realtà è un uomo inventato perché si chiama in realtà Ilie, oggi si chiama Ilie Combré, in onore di Proust. Per dirvi il genio profondo di Proust, io anni fa, in un squallido feticismo proustiano, mi avventurai in quelle lande e la delusione è cociente. Però l'idea è proprio la grandezza di Proust, cioè il giardino di Swan è un appezzamento di tre metri quadrati. La casa del narratore sembra pietralata. Quello che dovrebbe essere, come dire, la tenuta a Germant, la casa dei miei montagne era più lussuosa. Quindi in realtà, lì c'è la grandezza di... una volta notavo il fatto che, per capire proprio l'anima degli scrittori, quando tu vai a visitare a Praga la casa di Kafka, o quella che si pensa fosse la casa di Kafka, una casa splendida, piena di paracchè, non dico arazzi, però c'è un posto... e tu invece immagini che Kafka ingessi in una specie di tugurio, no? Vai a vedere la casa di Proust, immagini di trovare una cosa e ti trovi a pietralata. Questa è la potenza della letteratura. In ogni caso, tornando a Bomba, lui descrive, evoca agli anni, i fiabbeschi della sua prima infanzia a Combré. E la sua fissazione di bambino, un po' rompipalle, nevrastenico, di, oltre che, diciamo, minato da un così precocissimo complesso d'Odipo, da questo desiderio che la mamma, prima che lui vada a letto, gli dia il famoso bacio della buonanotte. Che succede? Succede che tutte le sere, sostanzialmente, il bambino non va a letto se la mamma non va a dare il bacio della buonanotte. Vista, diciamo, dagli occhi del narratore, la cosa è tenera. Vista dagli occhi, forse, della madre del narratore, invece, è un po', appare un po' morboso. Fatto sta che la madre va tutte le sere a salutare questo, appunto, rompipalle di bambino che se no, non si addormenta. Che succede? Succede che una sera, in realtà, sono molte sere, ma come tutto nella ricerca, come dire, ha un respiro talmente universale che una sera vale per tante sere. Qui il narratore parla di una sera in particolare, ma noi intendiamo varie sere, avviene qualcosa. E cioè che i genitori ospitano un loro vicino, che tra l'altro avrà un'importanza sostanziale nel romanzo che si chiama Charles Swan che viene sostanzialmente ospitato dai genitori tipo due o tre volte ogni estate e che la cui visita il narratore teme, è terrorizzato perché ogni volta che Swan va a trovare i genitori la madre non va a dare la buonanotte perché devono intrattenersi per l'ospite e quindi lui bambino deve andare a letto. Che succede? insomma è uno dei più celebre miti brustiani però insomma ve lo riassumo in tre parole una di queste sere il narratore sconvolto dall'idea che la madre non lo vada a trovare manda un bigliettino alla madre che sta in giardino tramite la cameriera tramite la tata che si chiama Françoise in cui dice mamma devi venire immediatamente. Ora il rapporto tra i due cioè tra la madre e il figlio è sostanzialmente minacciato dalla figura da una figura tra l'altro per me interessantissima perché forse è l'unica figura in tutta l'opera che abbia un briciolo di senso alla realtà che è la figura del padre il quale è molto ostile a queste morboserie tra bambino e quindi la madre è terrorizzata all'idea che il padre punisca il figlio perché il figlio ha usato e quindi finisce con l'essere ancora più severa del padre il fatto sta che la madre non risponde Françoise torna e dice al bimbo disperato non c'è risposta naturalmente questo è uno dei nuclei della ricerca perché in realtà l'idea che l'amante non risponde all'amato no al contrario l'amato non risponde all'amante è un tema che poi verrà appunto a più riprese tematizzando la ricerca su Anodet il narratore Albertin Charles-Louis Morel e via dicendo l'amore nella ricerca funziona sempre in questo modo c'è uno che fugge e l'altro che invece gli va dietro questa è la prima volta il primo amore della ricerca è quello tra mamma e figlio e noi vediamo questa appunto dinamica che più volte si ripeterà la vediamo incarnarsi nel narratore che attende la madre e chiede di lei e la madre non gli dà udienza a punto tale che Proust era una cosa deliziosa e dice è incredibile che proprio Swan mi impedisse di vedere mia madre perché nessuno più di lui avrebbe potuto capirmi visto che lui qualche anno prima aveva sofferto del fatto che Odette che era la donna che all'epoca Swan amava che Odette non gli desse alcuna disposta come mettendo in relazione in un modo piuttosto sì questo smorboso la relazione adulta e consenziente e eterosessuale tra Odette e Swan con la propria relazione evidentemente incestuosa con la madre tanto sta che preso dalla disperazione il nostro Marcel va in cerca della madre e si avventura nel corridoio a questo punto vorrei ammesso che io lo trovi eccolo qua vorrei leggere con voi quel passo meraviglioso allora la scena è questa possiamo pensare che è notte tarda ma probabilmente come sapete bene la percezione del tempo che hanno i bambini è molto differente da quella che abbiamo noi quindi per i miei nipoti piccoli che ne so a Capodanno mi hanno detto zio sono andato a letta a luna come dire no quindi possiamo immaginare che che appunto che siano che ne so dopo una cena tra amici che siano mezzanotte le dieci e mezzo le undici che ne so fatto sta che il narratore che è un bambino un bimbetto ha la sensazione che sia un'ora che siano le quattro di mattina le vere ore piccole e naturalmente sa perché più volte è stato minacciato e a quell'età i bambini prendono troppo seriamente le minacce dei genitori che se lui verrà trovato sulle scale sveglio tremante in attesa della madre probabilmente verrà punito addirittura appunto nella trasfigurazione dell'infanzia Marselli il piccolo Marselli dice probabilmente mi cacceranno via di casa per questa cosa qui verrò cacciato via però a un certo punto con appunto con l'ottusità dell'amante tradito che però va sotto casa di lei costi quel che costi il narratore decide che non gli ne frega niente delle punizioni lui attenderà lì sulle scale che arrivino i genitori e a un certo punto i genitori arrivano la scena è costruita come un meraviglioso affresco non a caso Bruce da Paragone a un famoso affresco della Sestina di Benozzo Gozzoli in cui il padre assorge come quella appunto come quella figura ebraica con un turbante insomma una figura meravigliosa e ha una come dire una straordinaria plasticità proprio da affresco allo stesso tempo però come vedrete le luci sono delle luci invece in realtà molto caravaggesche e quindi c'è una luce come dire radente teatrale spettacolare perché queste scale la tromba di queste scale è immerse nel buio che possiamo immaginare di una casa di campagna quindi la notte e in un modo abbastanza spettacolare quasi da film thriller con vero thrilling infatti improvvisamente arriva la torcia che il padre ha in mano che sapete come funziona quando una torcia illumina una persona l'ombra di questa persona è un'ombra gigantesca quindi il bambino vede queste ombre che si avvicinano qui come dire è proprio Proust al suo meglio che succede? succede che improvvisamente la madre arriva lo vede e il suo primo pensiero proprio perché in realtà come d'altra parte la critica più volte è visto la madre è connivente con il bambino è allo stesso tempo l'amante e la torturatrice di questo bambino lo vede e con la faccia disperata dice che fai qui sei matto ti vede papà è finito e lui appunto in modo cocciuto dice no vieni qua vieni qua voglio il bacio e sta per iniziare sta per scoppiare a piangere il padre arriva li becca i due becca i due in flagrante becca e essendo appunto come vi dicevo l'unico interprete del senso della realtà in questo romanzo dove sono tutti un po' strambi rimane quanto meno perplesso non tanto dal fatto che il figlio sia sveglio che non gliene frega niente dal fatto che ci sia questa sorta di montante disperazione sia nella madre che nel figlio per una cavolata del genere e la madre tutta preoccupata gli dice il bambino sta male adesso lo mando a letto non preoccuparti e il padre che appunto è un uomo per bene dice ma poveraccio guarda come sta vai a dormire con lui io vado a dormire da solo ma avete pure un po' rotto le palle con queste vostre morboserie andate a dormire naturalmente il narratore che voleva semplicemente un bacetto come uno vuole un bacio e ottiene sapete cosa lui voleva un bacio dalla mamma e si trova la mamma tutta la notte per sé è sconvolto dalla felicità ed è da qui che inizio a leggere non si poteva ringraziare mio padre lo si sarebbe soltanto infastidito con quelle morboserie come le chiamava lui me ne stetti là senza zardare un movimento lui era ancora davanti a noi alto nella sua camicia da notte bianca sotto lo scialle indiano viola e rosa che da quando soffriva di nevralgie s'annodava attorno alla testa con il gesto di Abramo che nella stampa da Benozzo Cozzoli regalatemi da Swan dice a Sara che deve separarsi da Isacco a parte su questo è stato mille volte commentato ma l'immagine la metafora è meravigliosa Isacco che è Abramo che sta per uccidere Isacco e la madre che si separa dal figlio qui avviene l'esatto contrario il padre è Abramo che invece sta mettendo la madre nel letto del figlio ed ecco che improvvisamente a questo punto il tono cambia il tono cambia perché è come se quella macchina del tempo improvvisamente dal passato ci portasse al presente fin qui noi siamo stati nell'infanzia del narratore o meglio ci siamo svegliati in questo dormiveglia del narratore che immediatamente si è si è slanciato verso il passato remoto della sua infanzia ecco che improvvisamente irrompono il nuovo irrompe il passato prossimo e il presente e noi abbiamo la sensazione che improvvisamente il narratore parli di sé ormai vecchio molti anni dopo in questo passo mirabile che sto per leggere noi proprio abbiamo come credo in nessun'altra scena della letteratura il tempo di un passato che è stato distrutto per sempre per questo vi dicevo che l'uso che lui qui fa del passato prossimo e del presente è particolarmente commovente sono passati parecchi anni da allora la parete delle scale lungo la quale vi di salire il riflesso della candela non esiste più da molto tempo questa è la prima volta vi annuncio un grande commozione questa è la prima volta nella ricerca che lui usa il presente indicativo quando usa il presente per questo vi dico che la ricerca è un'opera sulla distruzione la prima volta che il nostro usa la frase il presente indicativo ci dice per dirci che non esiste più quella scala che cosa vuol dire che non esiste più quella scala vuol dire è una sineddo che possiamo dire una parte per il tutto non esiste più quella scala perché non esiste più la casa perché non esiste più il paese perché tra l'altro stavo distrutto dalla prima guerra mondiale perché non esiste più quel mondo perché tutto è svanito e trovo sapete quando si scrivono passi commoventi bisogna avere il ciglio asciutto ed è con grande dignità che Proust ci introduce diciamo nel suo dramma non lacrima non piange ce lo dice appunto con estrema sobrietà non ci dice ora che non ci sono più i miei il mondo è andato svanito come farebbe uno scrittore di serie C ma ci dice ci dà un dettaglio specifico un dettaglio molto interessante le scale ora quelle scale non esistono più sono passati parecchi anni da allora la parete delle scale lungo la quale vi di salire il riflesso della candela non esiste più da molto tempo anche dentro di me tante cose sono andate distrutte che credevo dovessero durare per sempre e altre nuove ne sono sorte facendo nascere nuove pene e gioie che quella sera non avrei potuto prevedere così come quelle da allora mi è ormai difficile da comprendere e qui ci dà un altro elemento fondamentale cioè non solo è venuto meno il suo mondo ma sono venute meno anche le persone amate nel caso specifico i genitori e sentite come ci dice Proust che il padre è morto tenete conto che il narratore della ricerca non ci dirà mai mentre ci dirà a un certo punto che il padre non c'è più non ci dirà mai che la madre non c'è più in realtà come è stato notato dalla critica c'è uno strano spostamento cioè la morte della mamma in realtà riguarda la morte della nonna poi sapete è letteratura non è vita quindi insomma Proust aveva il diritto di fare quello che voleva in ogni modo dicevo che qui ci sta per dire che non solo il mondo in cui ha vissuto è venuto meno ma sono venuti meno anche le persone amate e quindi e da molto tempo a mio padre non è più possibile dire alla mamma vai col piccolo quelle ore mi sono ormai inaccessibile ma da un po' di tempo ho ricominciato a sentire molto bene se mi concentro i singhiozzi che vi la forza di trattenere davanti a mio padre e che scoppiarono quando più tardi mi ritrovai solo con la mamma in realtà essi non sono mai cessati ed è soltanto perché la vita si è fatta adesso più silenziosa intorno a me che li sento di nuovo come quelle campane di conventi che il clamore della città copre tanto bene durante il giorno da far pensare che siano state messe a tacere e invece si rimettono a suonare nel silenzio della notte grazie grazie